ben ritrovati miei epici amici al salone della storia della locanda anche se in questo podcast non è che parliamo proprio di storia diciamo che fa parte della storia ma di base non si sa se è proprio esistito davvero comunque achille 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 chi si ricorda il film troi con brad pitt ebbene tutti i greci e gli achei osannavano achille mentre attaccava la spiaggia della terra di troia e noi parleremo oggi di achille achille soprannominato pie veloce o pie rapido è un eroe della mitologia greca eroe leggendario della guerra di troia e protagonista dell'iliade il mito di achille è tra i più ricchi antichi della mitologia greca oltre all'iliade altre leggende hanno fatto proprio tale personaggio e si sono sforzate di completare il racconto della sua vita inventando episodi che supplissero alcune lacune dei poemi omerici via via si è venuto a formare un ciclo di achille ricco di versioni sovente divergenti come per esempio il fatto che spesso dormisse nella foresta di giorno versioni che hanno ispirato i poeti tragici ed epici dell'antichità fino all'epoca romana achille viene anche chiamato col patronomico pelide essendo egli figlio di peleo il mito origine achille era un semidio essendo figlio del mortale peleo re dei mirmidoni di phtia regione nel sud est della tessaglia e della nereide teti zeus e poseidone si erano contesi la mano di teti fino a quando prometeo o secondo altre fonti temi profetizzò che la ninfa avrebbe generato un figlio più potente del padre per questo motivo essi dovettero rinunciare alle loro pretese e costrinsero teti a sposare peleo giustamente convinti che il figlio di un mortale non avrebbe costituito una minaccia esiste una versione alternativa data dalle argonautiche nella quale era alluda la resistenza e il rifiuto di teti alle avance di zeus per rispetto al legame matrimoniale era zeus nel poema in completo achilleide di publio papino stazio del primo secolo c'è una versione che non si trova in altre fonti in base alla quale teti quando achille nacque lo immerse nel fiume stige per renderlo invulnerabile tenendolo per un tallone il bambino divenne così invulnerabile ad eccezione di quel punto che non era stato immerso il famoso tallone di achille non è chiaro se questa versione di stazio fosse nota in precedenza in un'altra versione citata nel libro quarto de le argonautiche teti per rendere immortale il figlio longeva di giorno con l'ambrosia mentre di notte di nascosto da peleo ne bruciava le parti mortali del corpo nel fuoco per renderlo invulnerabile una notte peleo si svegliò e vedendo il figlio letto agitarsi tra le fiamme lanciò un urlo tetia di rata gettò il bambino a terra e veloce come il vento o come un sogno se ne andò immergendosi nel mare senza fare più ritorno peleo con l'aiuto del centauro chirone sostituì il tallone di achille rimasto ustionato con la stragalo del gigante damiso celebre per la sua velocità nella corsa da qui l'appellativo di pie veloce con cui l'eroe viene anche denominato tuttavia nessuna delle fonti antecedenti stazio fa riferimento alla sua invulnerabilità al contrario nell'eneide omero narra di un achille ferito nel libro 21 l'eroe peonio asteropeo figlio di pelegone sfida achille nei pressi del fiume scamandro egli ambidestro scaglia due lanci alla volta e la seconda colpisce achilla il gomito facendogli sgorgare del sangue neanche in cipria e chiopide la piccola eliade e lillus persis poemi epici greci del ciclo troiano dove compare una descrizione della morte dell'eroe c'è alcuna traccia della sua invulnerabilità o del suo famoso tallone in alcuni successivi dipinti su vaso che raffigurano la sua morte una o più frecce trafiggono il suo corpo peleo affidò achille al centauro chirone sul monte pelio affinché provedesse alla sua crescita ed educazione e parliamo adesso dell'educazione sul magnifico pelio il fanciullo ricevette le cure della madre del centauro chirone filira e di sua moglie la ninfa cariclo chirone provvede a cambiargli il nome in achille prima infatti era chiamato ligirone che significava piangente diventato più grande achille cominciò ad esercitarsi nella caccia e nell'addestramento dei cavalli come pure nell'arte medica mentre imparava a cantare a suonare la lira chirone lo addestrava alle antiche virtù il disprezzo dei beni di questo mondo l'orrore della menzogna la moderazione la resistenza alle cattive passioni e al dolore il centauro lo nutriva con midolla di leone di cinghiale per trasmettergli la forza e il coraggio di questi animali e con miele midollo di cerbiatto per renderlo agile e veloce ma al tempo stesso dolce e persuasivo chirone gli insegnò suonare perfettamente la formings strumento musicale a quattro corde simile alla cetra mentre la musa calliope lo istruì nel canto e nell'arte della pittura le doti del giovane eroe si rivelarono già all'età di sei anni quando grazie ai consigli del suo maestro uccise il primo cinghiale da quel momento il pelide iniziò a portare continuamente nella grotta di chirone le prede che cacciava la sua bionda capigliatura splendeva al sole durante le corse e quando si dava alla caccia raggiungeva ed abbatteva i cervi senza l'aiuto dei cani le sue doti stupivano persino le divinità atena e artemide sbalordite dalla grazia e dalla capacità di quel fanciullo così piccolo durante questo periodo di educazione alla vita guerriera achille ebbe come inseparabile compagno patroclo il quale benché fosse più grande di lui non gli era superiore nella forza e ne poteva vantare la stessa nobile origine contemporaneamente agli insegnamenti di chirone achille apprese dal precettore fenice l'arte dell'eloquenza e l'utilizzo adeguato delle armi secondo la tradizione omerica il pelide trascorse la sua giovinezza aftia insieme al padre peleo e all'anziano fenice che molto lo amava e lo considerava come un figlio il poema ricorda anche l'episodio in cui fenice offriva del vino al giovane eroe il quale spesso lo risputava sulla sua tunica ancora troppo giovane per poterlo gustare sin da bambino gli dèi che da tempo lo ammiravano e conoscevano il destino che l'attendeva lo avevano avvisato sul suo futuro gli fu chiesto se preferisse vivere a lungo ma senza gloria o avere una vita breve e famosa per le imprese che avrebbe compiuto il giovane achille scelse quest'ultima opzione e il suo destino fu così segnato il rifugio a sciro quando achille aveva nove anni calcante un indovino che aveva tradito i troiani per schierarsi dalla parte degli achei annunciò che troia non avrebbe potuto essere conquistata senza l'aiuto del giovane tra le sue file teti o secondo altre versioni peleo la quale era venuta a sapere di questa profezia temendo la morte del figlio sotto le mura della città sottrasse il giovane alle cure di chirone e lo portò presso il re licomede a sciro presentandolo come una donna lo vestì con abiti femminili e lo fece vivere insieme alle figlie del re forse licomede era conoscenza della verità ma non obiettò nulla accettandolo di buon grado qui l'eroe rimase nove anni venendo soprannominato cercisera essa o pirra cioè la fulva a causa dei capelli di colore biondo ordente durante questo periodo l'eroe si innamorò di deidamia una delle figlie di licomede la sposò e da lei ebbe un figlio pirro che più tardi avrebbe preso il nome di neottolemo in base a un'altra leggenda neottolemo era figlio di achille di figenia intanto ulisse odisseo in greco avendo anche egli saputo dall'indovino calcante che troia non avrebbe potuto essere conquistata senza la partecipazione di achille fu incaricato insieme a nestore e a jace telemonio di andare alla ricerca del giovane scoperto il suo nascondiglio i tre si presentarono il cospetto di licomede travestiti da mercanti portando sciro stoffe e oggetti preziosi adatti ai gusti femminili tuttavia dentro una cesta lo scaltro odisseo aveva messo alcune splendide armi che achille immediatamente scelse rivelandosi secondo un'altra versione mentre le fanciulle erano intenta a scegliere articoli di ricamo e stoffe odisseo simulò fragore di armi in mezzo all'arem di licomede le ragazze terrorizzate fuggirono mentre achille conforme al suo spirito maschile si strappò di dosso le vesti femminili si rivestì del bronzo guerriero ed uscì pronto a combattere teti e peleo dovettero così rassegnarsi all'inevitabile destino del figlio e non ostacolarono più la sua vocazione di guerriero al momento della sua partenza peleo fece voto di consacrare al fiume spercheio che bagnava il suo regno i capelli del figlio se fosse tornato sano e salvo dalla spedizione teti da parte sua ripete ad achille il futuro che lo attendeva ma achille senza esitare confermò la decisione di molti anni prima e scelse la vita breve e gloriosa la dea consegnò all'eroe anche un'armatura divina offerta un tempo da efesto a peleo come regalo di nozze e vi aggiunse i cavalli che poseidone aveva portato come dono nella stessa occasione affiancò poi al figlio un compagno di nome mnemone la cui sola funzione era quella di impedirgli con i suoi consigli di uccidere un protetto di apollo un oracolo infatti aveva profetizzato che achille sarebbe morto di morte violenta se l'avesse fatto ma di questo eroe però non si specificava il nome teti infine gli proibì di sbarcare per primo sulla riva troiana perché il primo a farlo sarebbe stato anche il primo a cadere vittima del nemico sorte che toccò a protesilao altre fonti tuttavia sostengono che senza l'intervento della dea atena che lo trattenne l'impetuoso eroe avrebbe dimenticato l'avvertimento e avrebbe anticipato chiunque altro la prima spedizione e l'aiuto di telefono dopo la sortita di odisseo nestore patroclo presso il relico mede achille si convinse a prendere parte alla spedizione di troia mettendosi a capo di una flotta di 50 navi con a bordo un contingente di mirmidoni accompagnato dall'amico patroclo dalla origa auto medonte e dal precettore fenice prima della partenza su decisione dei capi achille assunse il comando supremo della flotta achea sostenuto da iace talamonio e da fenice nell'iliade l'esercito acheo giunse direttamente dalla città di aulide a troia ma alcune successive leggende narrano di un primo tentativo di sbarco che fallì completamente la prima volta in cui la flotta lasciò aulide per attaccare troia vi fu un errore sulla direzione da prendere e anziché giungere nella troade gli achei approdarono molto più a sud nella misia pensando di essere nella troade decisero di saccheggiare il paese il cui re era telefo figlio di eracle altre versioni sostengono che essi deliberatamente mossero contro i misi prima di attaccare troia per impedire che priamo potesse richiedere il loro aiuto telefo fronteggiò gli invasori con il suo esercito uccidendone molti tra cui tersandro figlio di polinice che aveva cercato di resistergli ma patroclo e diomede riuscirono a strappare il suo cadavere ai nemici durante la lotta patroclo colpito da una freccia scagliato dalle truppe nemiche fu costretto ritirarsi quando arrivò achille telefo spaventato fuggì lungo le rive del fiume caico ma durante la fuga rimase impigliato in un ceppo di vite e cadde venendo ferito alla coscia d'achille da un colpo di lancia successivamente resisi conto dell'errore gli achei si imbarcarono alla volta di troia ma non riuscirono aggiungervi poiché una tempesta disperse la flotta achille in particolare si ritrovò a sciro presso la moglie e il figlio durante gli otto anni trascorsi nella città achille ebbe modo di rivelare lì com'è del suo amore per dei damia il re concesse i due di sposarsi anche per riparare alla nascita di neottolemo che achille aveva tenuto nascosto durante la sua permanenza sciro sotto abiti femminili secondo un'altra versione riportata nell'iliade dopo la tempesta che disperse l'intera flotta achille organizzò una spedizione contro la rocca di sciro insieme all'amico patroclo uccidendo re e inieo e facendo numerosi schiavi otto anni dopo comunque gli achei riunirono di nuovo l'esercito radunandosi questa volta ad argo ma non sapevano come raggiungere la troade telefo la cui ferita non guariva e al quale apollo aveva predetto che colui che lo aveva ferito lo avrebbe guarito giunse dalla misia ad arco travestito da mendicante e si offrì agli achei di indicare loro il cammino se achille avesse consentito a guarirlo avvertito da calcante che solo telefo avrebbe potuto condurli a troia achille ha consentì mise un po della ruggine che si trovava sulla sua lancia sopra la ferita di telefo facendolo guarire come promesso telefo accompagnò gli achei fino al loro sbarco nella troade seconda spedizione da argo la flotta achea si portò ad aulide dove però le navi rimasero bloccate a causa di una persistente bonaccia interpellato tale riguardo calcante risposa che essa era dovuta all'ire di artemide che si sarebbe placata solo se agamennone le avesse sacrificato la figlia ifigenia la quale si trovava insieme alla madre a micene agamennone a consentì e per attirare la figlia ad aulide senza destare sospetti né in lei né nella madre clitemnestra pensò di addurre come pretesto la sua volontà di darle in sposa ad achille quest'ultimo non era il corrente dell'inganno e quando ne venne a conoscenza decise di intervenire per salvare la giovane ifigenia però era già stata portata ad aulide achille cercò di opporsi ma i soldati gli si sollevarono contro minacciando di lapidarlo quando arrivò l'ora del sacrificio con ifigenia rassegnata al suo destino per il bene del paese la lama calò su di lei ma al suo posto colpì un cervo mentre la fanciulla fu portata via in salvo da artemide secondo altre versioni l'eroe per ordine della stessa artemide estraziato dalle lacrime di clitemnestra intervenne durante il sacrificio salvando la giovane e conducendole in scizia secondo zezze achille la sposò e da lei nacque neottolemo secondo quanto testimonia l'odissea durante un banchetto tenuto dal cino re dei feaci la edo demodoco canta di una disputa sorta tra odisseo e achille il primo esaltava la prudenza mentre il secondo esaltava il coraggio agamennone al quale apollo aveva predetto che gli achei avrebbero conquistato troia allorché fosse subentrata la discordia tra le sue file vide in questa discussione il presagio di una pronta vittoria i primi nove anni di guerra per nove anni gli achei stazionarono davanti a troia l'iliade però inizia il suo racconto a partire dal decimo anno di assedio pertanto le imprese relative ai primi nove anni o sono riportati come antefatti nel poema omerico o riguardano altri racconti che formano la ricca collana di leggende incentrate su achille la guerra di troia e i suoi personaggi finalmente ripresero soffiare i venti e la flotta seguendo le indicazioni di telefo giunse nell'isola di tenedo quando le navi arrivarono in prossimità dalle coste dell'isola il re tenete dall'alto di un promontorio iniziò a scagliare enormi massi sulle navi sottostanti achille furente si tuffò in mare e raggiunse a nuoto la riva una volta davanti a tenete lo colpì con la lancia trapassandogli il cuore achille quindi si addentrò nell'isola con i suoi mirmidoni qui affrontò cicno figlio di poseidone uccidendolo con un colpo alla nuca suo unico punto vulnerabile durante il saccheggio notò emitea sorella di tenete innamorandosene perdutamente la fanciulla fuggì come una cerbiatta ma la terra si aprì sotto di lei indiottendola in altre versioni tenete intervenne a difesa della sorella venendo trafitto da achille con la sua lancia mentre emitea veniva risucchiata nelle viscere della terra accortosi troppo tardi di avere inadvertitamente compiuto la profezia contro la quale la madre lo aveva messo in guardia ossia di non uccidere tenete achille cercò di rimediare organizzando per tenete funerali imponenti e per punire il suo destino e castigare la negligenza che l'aveva condannato uccisa il servo mincone che avrebbe dovuto impedire l'avverarsi della stessa profezia ricordando il monito della madre dell'indovino calcante che presagiva una morte certa chi fosse sbarcato per primo sulla costa troiana achille esitò in attesa che a farlo fosse qualcun altro fu allora protesilao a farsi avanti cercando di infondere coraggio i suoi compagni terrorizzati dalla profezia appena messo piede a terra protesilao venne trafitto da un giavellotto solo a quel punto achille seguito dai suoi mirmidoni scese a riva e si scagliò contro il padre di tenete cicno anche gli alleato dei troiani figlio di poseidone e di arpelea che era invulnerabile fatta eccezione per il collo la rabbia dell'eroe acheo fu tale che scendendo sulla terraferma con un balzo fenomenale fece sgorgare una sorgente scatenatosi in duello achille colpì il nemico al volto e lo ricacciò indietro a colpi di scudo fino a che cicno inciampò e cadde achille consapevole dell'invulnerabilità del nemico che aveva fatto strage di oltre mille achei lo sollevò a mezz'aria e lo strozzò con i cinturini del suo stesso elmo un'altra versione in evidente contrasto con la precedente afferma che achille uccise cicno scagliandogli una pietra al volto in ogni caso achille balzò sul cadavere e gli tagliò la testa hissandole in cima alla punta di vecchio pelio mostrandola ai troiani questi atterriti fuggirono lasciando agli achei la possibilità di allestire gli accampamenti sulla spiaggia che passò così sotto il controllo di agamennone mentre achille spogliava cicno delle sue armi poseidone tra lo stupore dell'eroe acheo lo fece svanire dalle sue mani il dio del mare addolorato per la perdita di uno dei suoi tanti figli prediletti tra i più valorosi sul campo di battaglia l'aveva reincarnato in un cigno immortale le incursioni di achille sconfitti teucri altro nome con cui vengono disegnati troiani che furono costretti alla ritirata gli achei allestirono i loro accampamenti intorno alla città di troia e tirarono in secca la loro flotta nel frattempo achille operò con le sue truppe di mirmidoni delle incursioni tese ad annientare le difese esterne della città insieme ai suoi uomini migliori preparò anche il saccheggio notturno all'interno della stessa città riuscendo a penetrarvi ad afferrare con la forza licaone figlio di priamo mentre era intento a portare un fico selvatico nel frutteto del padre achille gli balzò addosso e lo consegnò a patroclo che lo portò a lemno dove venne venduto ad euneo dieci anni dopo licaone fu riscattato da ezione re della tebe di cilicia licaone fu costretto a fuggire da lì dopo che i greci conquistarono la cilicia uccidendo il re tornò dunque a troia ma morì dopo soli 12 giorni ucciso da achille assettato di vendetta per la morte di patroclo insieme a patroclo achille si inoltrò sul monte ida sapendo che lì priamo teneva greggi e mandri di buoi custodite dai figli qui achille si scontrò con enea che stava facendo pascolare liberamente il bestiame facendo razzia degli animali enea non poteva opporre alcuna resistenza consapevole delle origini divine e della natura sovrumana dell'eroe acheo mentre gli animali venivano abbattuti o razziati e i mandriani tra cui mestore uno dei figli di priamo venivano uccisi enea fuggì cercando rifugi in una città vicina achille in seguito catturò altri due figli di priamo iso e antifo legandoli con funi di vimini e liberandoli solo su riscatto enea trovò rifugio presso la città di lirnesso zeus gli garantì slancio ed agili gambe proteggendolo dalla foga del pelide e da atena ma achille a capo di un gruppo di mirmidoni assediò la città alleata dei troiani costringendola in poco tempo alla resa penetrò il suo interno e la saccheggiò achille uccise minete re dei cilici risparmiando la sua promessa sposa ipodamia meglio nota come briseide ella era figlia di brise un sacerdote di apollo che abitava lirnesso il quale alla vista della sua casa distrutta e della figlia rapita si suicidò per il dolore briseide divenne quindi schiava di achille patroclo per consolarla della morte del padre le promise che avrebbe fatto in modo che l'eroe acheo la sposasse quando la città fu rasa al suolo enea chiese aiuto agli dèi e sempre grazie a zeus scampò nuovamente alla morte rifugiandosi a troia pente silea molte leggende vedono come protagonista achille fuori dall'iliade la quale si chiude con la restituzione del corpo di ettore al padre priamo re di troia anche dopo la morte di ettore la guerra continuò ed altri alleati giunsero in soccorso di troia per sfidare achille tra essi pente silea regina delle amazzoni che si scagliò contro achille venendo da lui uccisa e gettando nello sconforto l'eroe acheo affascinato dalla sua avvenenza secondo il mito solo nel momento in cui la colpì al petto rompendo nell'armatura achille ne poteva ammirare la bellezza quando si accorse che la distrazione per la sua avvenenza gli stava per costare cara si concentrò nuovamente nella lotta uccidendola secondo un'altra fonte pente silea era stata maledetta d'artemide che l'aveva condannata ad essere violentata da chiunque ne vedesse il corpo il viso per questo la regina combatteva coperta da un'armatura e da un elmo che le copriva il volto dopo averla uccisa achille la spogliò delle armi come era consuetudine e ammirandone la bellezza non poté che innamorarsene e cedere al desiderio possedendone avete capito cosa mentre era addolorato davanti al corpo esanime di pente silea l'acheo tersite lo derise irritato dal suo atteggiamento achille lo colpì con un pugno uccidendolo all'istante memnone dopo la morte di patroclo achille ancora una volta scese in campo per vendicare antiloco uccidendo l'avversario il duello tra achille e memnone ricorda molto quello tra achille ed ettore per vendicare patroclo se si esclude il fatto che memnone a differenza di ettore era figlio di una dea l'episodio è alla base del poema epico etiopide facente parte del ciclo troiano composto dopo l'iliade probabilmente nel settimo secolo avanti cristo e andato perduto tranne che per alcuni frammenti sparsi riportati da autori di epoche successive morte di achille come profetizzato da ettore in punto di morte achille fu successivamente ucciso da paride con una freccia avvelenata diretta nel tallone destro il suo unico punto mortale secondo stazio in altre versioni il dio apollo guidò la freccia scagliata da paride e in altre ancora si racconta che achille mentre scalava i cancelli di troia fu colpito dalla freccia avvelenata secondo diverse fonti quando achille fu trafitto mortalmente glauco guerriero della licia che combatteva a fianco dei troiani cercò di impossessarsi del suo cadavere egli scagliò la sua lancia contro agiacio telamonio il quale proteggeva il corpo di achille ma essa riuscì solo a scalfire lo scudo senza che gli penetrasse nella pelle agiacio a sua volta gli scagliò contro la sua lancia ferendolo mortalmente e poi roteando la sua immensa ascia tenne lontano i troiani dando modo ad odisseo di caricare achille sul suo carro e di portarlo via nell'etiopide attribuita da arctino di meleto achille dopo la sua morte viene rappresentato come ancora vivente sull'isola dei serpenti presso la foce del danubio un'altra versione sulla morte di achille narra che egli si innamorò perdutamente della principessa troiana polissena e chiese a suo padre priamo di poterla sposare priamo era consenziente perché ciò avrebbe significato la fine delle ostilità con gli achei o almeno in cambio di campo da parte dell'eroe ma mentre priamo era impegnato nei preparativi per il matrimonio paride che avrebbe dovuto rinunciare ad elena se achille avesse sposato la sorella nascosto dietro ai cespugli scagliò la freccia che avrebbe ucciso l'eroe acheo achille fu cremato e le sue ceneri furono depositate nella stessa urna che conteneva quelle di patroclo e di antiloco figlio di nestore il destino dell'armatura di achille l'armatura di achille fu oggetto di disputa tra odisseo e aiace telamonio che se la contesero tenendo dei discorsi su perché ognuno di essi dovesse essere considerato il più coraggioso dei soldati achei dopo achille e quindi meritevole della sua armatura alla fine fu assegnata ad odisseo ritenuto più utile ai fini della vittoria grazie alla sua astuzia e alla sua retorica furibondo per l'ingiustizia aiace maledisse odisseo scatenando l'ira della dea protrettrice di quest'ultimo atena la quale fece diventare aiace temporaneamente pazzo egli cominciò ad uccidere delle pecore scambiandole per i compagni che lo avevano deriso quando ritornò in sé aiace per la vergogna si uccise successivamente odisseo diede l'armatura a neottolemo figlio di achille una reliquia ritenuta la lancia di achille dalla testa di bronzo è stata conservata per secoli in un tempio di atena sull'acropoli la parte più alta della città di faselide nell'alicia la città fu visitata nel 333 avanti cristo da alessandro magno che si identificò come il nuovo achille portando con sé l'iliade ma i suoi biografi di corte non menzionano la lancia che il re macedone non avrebbe potuto fare a meno di toccare in preda l'emozione della lancia fa menzione pausania il piriegeta nel secondo secolo dopo cristo ed ora analizziamo il famoso rapporto tra achille e patroclo il rapporto tra achille e patroclo è uno degli elementi chiave dei miti associati alla guerra di troia quale sia stata la sua effettiva natura e fino a che punto si sia spinta questa stretta amicizia tra i due eroi è stato oggetto di controversie sia nel periodo antico sia nei tempi moderni nell'iliade i due hanno una profonda ed esclusiva amicizia achille si dimostra essere sempre molto tenero e preoccupato nei confronti del compagno d'armi quando invece si dimostra spietato insensibile e arrogante con tutti gli altri siano essi nemici o alleati i commentatori dell'epoca classica hanno facilmente tradotto il rapporto esistente tra i due attraverso la lente interpretativa della propria cultura ad atene durante il quinto secolo avanti cristo il rapporto è stato spesso e volentieri considerato la luce della tradizione della pederastia pedagogica nella tragedia perduta di eschilo dedicata all'eroe il poeta indica la relazione tra i due guerrieri come esplicitamente sessuale ed assegna ad achille il titolo di erestas e protettore in un frammento superstite l'eroe parla di una unione devota delle cosce indicando con tale termine il sesso intercrurale quello utilizzato maggiormente nelle relazioni pederastiche la ferita di achille la leggenda dell'invulnerabilità di achille non è riscontrabile nei poemi omerici ma è attestata molto più tardi nell'epopea incompiuta di pubbio papinio stazio nella guerra di troia gli unici mortali che poterono vantarsi di aver ferito achille anche se leggermente furono i seguenti eleno figlio di priamo e fratello di ettore salvò quest'ultimo interponendosi tra lui e achille nei primi scontri in campo aperto e ferì l'eroe acheo al polso con una freccia scoccata dall'arco d'avorio donatogli personalmente dal dio appollo asteropeo il giovane condottiero peone alleato dei troiani le cui estrema gesta sono raccontate nell'iliade non temette le stragi seminate da achille dopo la morte del compagno patroclo ma affrontò l'eroe apertamente mettendolo sulle prime in serie difficoltà essendo ambidestro asteropeo cercò di colpire l'avversario scagliando due lance contemporaneamente una delle quali ferì achille al gomito e infine ettore secondo quanto narra omero non inflisse mai danni fisici al pelide ma stando un'altra fonte il troiano riuscì a sorprendere achille nel loro ultimo scontro aperto trafiggendolo al femore con la lancia nell'iliade dunque non vi sono feritori di achille all'infuori di asteropeo destinato però a cadere sotto la spada del pelide in quello stesso scontro approfondimenti l'episodio di teti di peleo relativo al conseguimento dell'invulnerabilità di achille ripete quello di demetra e persefone la dea nel suo peregrinar la ricerca della figlia persefone chiese ed ottenne ospedalità presso metanira e per ringraziarla cercò di renderle immortale il figlio mettendolo sul fuoco analogamente a quanto raccontato in una delle due versioni relative all'invulnerabilità di achille anche qui la donna spaventata da quella visione si misa ad urlare interroppendo il processo l'altra leggenda legata all'invulnerabilità di achille l'immersione nell'ostige sembra essere di origine tardo latina come hanno sostenuto diversi mitografi moderni una leggenda racconta che achille fondò nel 1181 avanti cristo la città di chieti e che la chiamò teate in onore di sua madre anche se si tratta solo di una leggenda l'eroe omerico è rappresentato nello stemma del comune su un cavallo rampante mentre regge una lancia uno scudo su cui era figurato una croce bianca su campo rosso con quattro chiavi che rappresentano le quattro porte d'ingresso alla chieti medievale porta sant'anna porta santa maria porta napoli e porta pescara e con questo è stato detto tutto sul più grande eroe omerico spero che vi sia piaciuto questo podcast io vi ricordo come sempre della pagina facebook della pagina instagram e che se volete supportare il canale c'è la pagina cofì la pagina paypal oppure il patreon a me non resta altro che salutarvi e ci sentiamo al prossimo podcast